Ed eccoci qua, oggi siamo al bar Trattoria, la cooperativa di San Santogino. Ciao Ivo, ciao Valentina, benvenuti. Allora, siamo alla cooperativa, alla trattoria che noi gestiamo da tre anni, qualcuno non sa ancora che abbiamo cambiato gestione. Io sono Massimo, io sono Francesco, lui è il cuoco, io sono il cameriere gratuito. Niente, per presentarci, allora noi, vabbè, siamo cooperativa, non siamo solo trattoria, per cui ci teniamo molto a fare degli eventi estemporanei alla trattoria stessa, quindi non solo cibo, ma anche eventi musicali, eventi di teatro, solidarietà. Collaboriamo con quattro centri di disabili e questi sono i nostri fiori all'occhiello. E ora lascio a Francesco. E ora l'occhiello più grande che tutto è condito da dell'ottima cucina, con prodotti locali a chilometro zero, preparati tutti artigianalmente, senza preparati, senza suggelati, senza... Abbiamo un menù di lavoro ogni giorno a pranzo, siamo aperti sette giorni su sette. Primo, secondo, con sei, sette tipi di contorni a scelta, buffet, tutto quello che volete, quando volete, a dodici euro. Il nostro peluche vivente era il cane della mamma di Francesco, Maria che tutti conoscevano, il paese, ed è il nostro ora, è la nostra mascotte. Bene, grazie ragazzi, complimenti per tutto. E quindi i ragazzi del Barca Razzurina La Cooperativa vi aspetta qua in piazza Donoreste Cantone a Sant'Antonina. Grazie! Ciao a tutti!